Sì, guarda. Se non combino a farlo? No, comunque, ma i capelli potrebbe fare una parte di naturali, se li fa... Non è bene, sì, io mi lascio. Da. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ma come domani gliela amando e pure mi sembra il palco che sia. Io ci faccio. Ma, ok, ok. Ogni spazio, vabbè... Ma, quindi, se che ci mettono la giornata ci sta rompendo il palco. Cioè, poi meno male... Meno male... Cioè, la pianta la trova a regalare... ma io pensi che oggi sono una cosa per utilizzare facciamo facciamo un po' che non uscire e poi facciamo un po' eccoci ci organizziamo è un po' che c'è e poi facciamo un po' e poi facciamo un po' se mi fa volto non ci sarà e poi facciamo un po' lato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.